Altre 15 stufe elettriche sono arrivate questa mattina alla scuola Sant'Agostino di Sciacca per tamponare il problema del mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento proprio nei giorni in cui le temperature sono particolarmente rigide. Tutte le classi di scuola dell'infanzia e della primaria dunque sono coperte posto che già ieri il comune di Sciacca aveva consegnato alla scuola le prime 10 stufe. La soluzione tampone prospettata dall'assessore all'istruzione Salvatore Magnino è arrivata in attesa della definitiva che porti alla sistemazione dell'attuale caldaia presente nei locali scolastici o all'acquisto di una nuova. Questo hanno nuovamente chiesto i genitori dei bambini che frequentano il plesso di Sant'Agostino che si sono riuniti stamattina in assemblea. L'amministrazione comunale ha dichiarato da parte sua la dirigente scolastica Maria Paola Arrai e ha assicurato che lunedì prossimo ci farà sapere se la caldaia si può sistemare o se ne sarà acquistata una nuova. Intanto, aggiunto, premiamo atto del fatto che è stato mantenuto l'impegno di tamponare con le stufette elettriche. Soluzione, quest'ultima, che viene ugualmente criticata dai gruppi consigliari di opposizione. Bimbi al freddo e stufe elettriche come tampone sono il disastroso risultato donato dall'amministrazione comunale che rivendica invece novità e innovazione. Hanno scritto in un comunicato stampa diffuso questa mattina sulla vicenda delle scuole senza riscaldamento che viene definita vergognosa. Per l'opposizione consigliare di servizi legati ai riscaldamenti negli istituti scolastici di Sciacca dimostrano la totale assenza di programmazione da parte dell'amministrazione comunale. Che ha generato nervosismo tra i genitori e difficoltà ai piccoli alunni. L'assenza di opportuna verifica degli impianti di riscaldamento delle scuole concludono i gruppi consigliari di opposizione. È l'ennesima prova di un'assenza di competenze e di opportuna programmazione da parte dell'aggiunta termine. Grazie. Grazie.